Ben ritrovati amici in questo secondo video di oggi parleremo dell'anteprima della puntata odierna di WWE NXT 7 ottobre 2020, intanto siamo alle 10 puntuale spaccate, come vedete dall'immagine di video copertino ovviamente una delle protagoniste dello show giallo sarà Amber Moon che era praticamente la figura misteriosa che si nascondeva dietro il promo già da un mesetto circa che poi si è fatta rivedere durante il undercover di domenica scorsa. Altra cosa in lista per la puntata di oggi cuscita contro Tommaso Ciampa poi si presume penso credo che dovremmo avere quantomeno degli aggiornamenti della notizia per quanto riguarda Finn Balor il titolo massimo di NXT e Kyle O'Rally e penso anche qualcos'altro tipo Landis Pudi Dira, Adam Cole, insomma ma la cosa più importante è che credo dovrebbe tornare, credo è dovrebbe tornare live NXT alla non più al performance center ma rinominato al Capital Wrestling Center. Quindi per ora è tutto il prossimo video credo potrebbe essere il Deluxe Zekilo Show però più tardi nel pomeriggio. Grazie a tutti quindi domani ovviamente commenteremo quello che succederà nella notte tra oggi e domani di NXT e poi per quanto riguarda le NBA visto che è giusto anche parlare di NBA nel momento che le Finals si concluderanno al momento se non mi sbaglio i Lega sono avanti 3 a 1 con la vittoria della notte scorsa quindi se la prossima partita dovessero vincere facciamo il video un po' per riassumere diciamo quello che è stato il cammino di entrambe nei play-off. Bene ora è davvero tutto rilancio la linea allo studio noi ci vediamo al prossimo video ciao alla buona ciao